Ciao ragazzi, buona domenica, bentornati sul canale e bentornati su World of Warships Oggi andiamo a vedere un gameplay con l'incrociatore Stalingrad Nave che si può ottenere solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo dell'acciaio Vediamo subito il matchmaking Siamo nella mappa rifugio modalità supremazia 4 punti di cap, 3 cacciador perinieri Cacciador perinieri come sempre molto molto pericolosi Però fortunatamente abbiamo il nostro bellissimo radar Che può arrivare fino a 12 km Quindi davvero qualcosa di incredibile La Rugumo, uno dei futuri cacciador perinieri che andranno ad aggiungersi alla mia flotta Sto sbloccando piano piano la Kitakaza E poi, come detto, a Rugumo Vediamo un pochino Abbiamo un totale di 4 corazzate Anche alcune navi di livello 8 Vari incrociatori di livello 10 molto pericolosi Abbiamo il des, il mino, la zao Insomma, come sempre pericolosi Tutte le navi sono pericolose se devo essere sincero Bisogna vedere un pochino come si utilizzano E in quale contesto si vanno a trovare Vediamo di prendere posizione dietro l'isolotto di Bravo Perché? Perché dobbiamo utilizzare il radar appena sarà il momento giusto La nostra Rugumo molto probabilmente Si spera, si farà trovare pronta per utilizzare i suoi cannoni Con una cadenza di fuoco, ragazzi, devastante Qualcosa di incredibile Un altro motivo per cui vorrei tanto sbloccare quel caccio torpediniere Sul settore di Charlie proponiamo Proponiamo la Z23 livello 8 tedesco Abbiamo poi sulla sinistra un incrociatore, una corazzata Un altro incrociatore un po' più defilato E poi il grosso della flotta Sembrerebbe andare verso il settore di Bravo Ovviamente staremo a vedere quello che succederà nella partita Ci posizioniamo qui in modo tale da avere anche una copertura abbastanza, diciamo, completa Per eventuali si duri nemici Loro propongono la Gehring a Kizuki Kiev A Kizuki la conosco molto bene Perché la sto giocando in questo periodo La Gehring, vabbè, ne ho fatte un bel po' di partite con la Gehring L'ho un po' lasciata però come per la 52 Prima o poi la riprenderò Andiamo con le HE contro l'incrociatore Aspetta perché, ok, la visuale è stata messa, diciamo, live Ok, 2970 Andiamo a mettere l'AP semplicemente perché quell'incrociatore è fermo O comunque sia peggio Sta indietreggiando Però noi l'abbiamo già letta la sua giocata E quindi cercheremo di farci trovare pronti alla chiamata Le AP dello Stalingrad fanno non male Fanno malissimo Abbiamo un altro, infatti, doppia cittadella Abbiamo una Zao dall'altra parte completamente ferma Perché stanno ferme le navi? Muovetevi Perché non dovete stare fermi con lo Zao Muovetevi Vi dovete muovere Cerchiamo ancora una volta il tiro contro il DS Nel frattempo la situazione dei punti di cap Sembrerebbe procedere senza troppi intoppi Abbiamo catturato Charlie Nel frattempo un'altra cittadella Nel frattempo stiamo catturando il settore di Charlie in tutta tranquillità Posizione abbastanza buona Perché il radar in teoria può prendere sia Charlie che Bravo Quindi svolgiamo una doppia funzione Il loro cacciatore peniere qui si allarga sul settore di I4 Per cercare un timido sfondamento Come vedete lì c'è tutta la flotta nemica Tre corazzate, un incrociatore e chissà cos'altro C'è lì dietro Quello Zao purtroppo ancora una volta non abbiamo tiro È vero che l'isolotto questo ci dà copertura Però è anche vero che non possiamo sparare sempre Non è basso Abbiamo comunque una certa altezza dell'isolotto stesso Sul settore di sinistra stiamo sfondando O perlomeno stiamo provando a sfondare Abbiamo la Missuri lì Missuri molto lontana In F8 Aspetta perché abbiamo ancora l'incrociatore Una bella cittadella non sarebbe male Nove colpi e tre cittadelle Direi che stiamo andando abbastanza bene Tra l'altro ragazzi questa è una delle classiche partite Che potevate non vedere Nel senso che sapete che io Quando penso che la partita comunque sia Abbastanza di intrattenimento La carico sul canale Ci metto il commento e siamo tutti felici Questa partita ripeto è stata giocata circa 20 giorni fa Qualcosa del genere Quindi rischiava seriamente di non vedere mai la luce sul canale Questa partita come tante altre Che per questioni anche di tempo O magari per non ripetere i vari gameplay Diciamo Sposto un pochino la scaletta In base appunto Alle necessità anche del canale Proviamo un colpo sullo za Vabbè Qua facciamo solo cittadelle Non so cosa dirvi Quattro colpi Quattro cittadelle Perfetto Ok 54 mila danni Stiamo andando abbastanza bene Loro hanno perso il des Molto pericoloso Certo Se avanza in quel modo Come sta facendo la zao Sicuramente Può incontrare dei grossi problemi Cerchiamo di colpire quella zao Perché alla fine È da un po' che si fa vedere No Sì Ce la facciamo a colpirlo Quella zao dovrebbe essere questioni di secondi Prima che venga timbrata Dalle nostre navi Abbiamo un po' di siduri che arrivano Cerchiamo qui un tiro veramente improbabile sulla missuri Ma veramente Improbabile sulla missuri Però ho detto Vabbè Proviamoci tanto La Bismarck può aspettare Aspettare però non troppo Mi raccomando Cercate sempre di sparare Ok Molto bene La nostra flotta qui Si è un po' presa paura Nell'avanzata verso Bravo Come vedete dalla mappa Si stanno ritirando i vari incrociatori E anche una corazzata Veramente Vediamo un pochino Continuiamo a sparare Siamo spottati Però ci stanno ignorando tutti quanti Qui nel frattempo in chat Qualcuno Se la prende un po' troppo Dai Che è solo un gioco Perché te la prendi così tanto Siamo saliti a 67.000 danni Un solo incendio Semplicemente perché Stiamo utilizzando le AP da un'ora e mezza Quindi insomma Spazio Alle HE È stato davvero molto poco Qua abbiamo la visuale Ok Ogni tanto ho paura Casomai non ho la visuale Quella corretta Quei colpi ci fanno capire Che si tratta del Minotaur L'unica nave che può sparare Con quella cadenza Nel fumo Cosa volete di più È sicuramente lui Andiamo a perdere la Baltimore Una cittadella nel fumo Ragazzi non ho parole Non ho parole Come ho fatto a capire Che si trovava in quel preciso punto Perché il fumo Non è che ti crea uno scudo Dalla quale sei protetto No non funziona così Io vedo i colpi partire Avevo capito Che lui stava mostrando il lato E quindi ho provato Il colpo Che è andato a segno E quindi Mi ha dato la cittadella Possiamo applicare Questo ragionamento Ovviamente Anche Ad un Cacciador periniere Che ci sta sparando All'interno del fumo Cerchiamo di vedere i colpi Come Stanno Partendo Cerchiamo di capire Quale nave ci sta sparando Per capire anche Magari la prua E la poppa E poi iniziamo A sparare Vediamo un pochino Perché il Minotaur È una nave Leggerissima Stiamo perdendo Un po' di colpi Per la verità Un po' di navi Vediamo un pochino 6.992 Poteva darmi Qualcosina in più Poteva darmi Qualcosina In più Cercate di andare Sul gearing Per favore I colpi Li stiamo assorbendo Molto molto bene Qui andiamo Con il radar Avete visto Cosa significa Utilizzarlo Nel momento Corretto Non utilizzate il radar Se non c'è necessità Di farlo Il gearing È stato spottato Dal mio radar Però nessuno Sta sparando Se siete corazzate Sparate I cacciador penieri Non state lì A conservare i colpi Per l'anno prossimo Dovete assolutamente Distruggere Il cacciador peniniere Colpo dello zao Che distrugge il gearing Molto molto bene Abbiamo levato Una nave Pericolosa Dalla partita 670 81 A 503 Proviamo un colpo Sullo zao Ci fermiamo Perché comunque C'è sempre Una corazzata In H In H6 Ecco appunto Stanno arrivando Anche colpi 6.000 Altri Colpi che arrivano Ancora il minotaur Che dà fastidio E qui do Un suggerimento Ragazzi Tenete i cap Perché dobbiamo avanzare Se abbiamo i punti di cap Sono loro che devono Pensare A come prenderli Non è un nostro problema Perché noi abbiamo Già cappato all'inizio Il nostro sporco lavoro Eh Lo abbiamo fatto Hanno il vantaggio Del cacciador peniniere Potrebbe essere Un problema Abbastanza serio Però È Un Diciamo È uno scambio Che abbiamo Dovuto accettare Perché loro Hanno perso Tre incrociatori Siamo sotto Di una nave E qui andiamo A recuperare Un po' di punti Vida Stanno catturando Il settore di bravo Sfortunatamente Dovrebbe essere Qualcuno che avanza Da destra Vediamo se riusciamo Eccolo lì La Bismarck La Bismarck Avanza Però c'è ancora C'è ancora L'incrociatore All'interno Del fumo Ci prova Nuovamente Vediamo un po' Se siamo fortunati A beccarlo Questa volta No Questa volta No L'ho mancato Alla grande Però insomma Vediamo un pochino Se ha capito Che non deve scherzare Con il fuoco Perché io so già Che sta con Il lato mostrato Ed è pronto Ad avanzare Per andare in copertura Con l'isolotto Lo hanno capito tutti Vediamo un pochino Seicento 820 A 493 I punti di capo Continuano A portare Vantaggio Alla nostra squadra Qui purtroppo Andiamo a perdere La corazzata Di livello 8 Francese Rimaniamo ancora Noi dietro L'isolotto Stiamo ottenendo Il lato E qua scrivo in chat Perché devi Perché devi Pushare contro Due corazzate Sul settore Di Bravo Con un incrociatore Che sta nel fumo Perché Non l'ho capita Questa cosa E ancora Mi chiedo Insomma Perché lo abbia fatto Radar Troviamo il tesoro Ci sono 5 navi Dentro Nel frattempo Quello si mangia Un'altra cittadella Ci sono 5 navi Dentro il settore Di Bravo Perché tra l'altro Nemici Sono andati tutti Dentro il settore Di Bravo Con una nave Che ha il radar Pronta Per spottare Tutti quanti 10.000 Sulla Missuri Un colpo Abbastanza Interessante Ragazzi Lo Stalingrad Fa malissimo Per non parlare Se trovate Una Izumo Una Musashi Una Yamato Gli sparate Nel punto Critico Di quella nave E vi assicuro Che arrivano Le doppie Le triple Le quadruple E arriva tutto Per la verità Qui Un po' timidi Anche Zao E Missuri È vero che hanno Pochi punti di vita Però insomma Altri 6.000 Proviamo a timbrare In maniera definitiva La Missuri La Kizuki Purtroppo rimane Ancora operativa Arrivano i colpi Della Jean-Bart La corazzata Altri 5.000 Perfetto La corazzata Francese Qui No Fermati Devi Non uscire Perché se esci Sei morto Te lo dico Se esci Mi fate fare Una kill Per favore Sto utilizzando Errata Da un'ora Ottimo Confederato Vabbè Una kill per David Non mi interessa Lo hanno visto tutti Il Minotaur Non lo so Andiamo sul Minotaur No certo che no Andiamo sulla Bismarck Vediamo un pochino Se riusciamo a Penetrarlo Qui un po' di Un po' di Tromba navale Per mettere paura Andiamo a fare 14.000 Non arriva la kill Ragazzi Manca la kill In questa partita È mancata la kill Sfortunatamente 981 A 442 Mi fate fare Solo una kill Per favore Una sola kill E poi possiamo Tornare a casa Promesso Ragazzi A questo punto Direi di rivedere I risultati Posto scontro Vediamo se arriva la kill Sulla Missuri Sì Una kill per David Ragazzi Video terminato Vi ringrazio Dei like Delle visualizzazioni E dei commenti E noi come sempre Ci vediamo alla prossima Ciao Ciao